Ehi, ciao a tutti amici, io sono Franco Versa e quello che vedete di sottofondo è Canvas in versione beta 3.60. Che cos'è? È un software dell'NVIDIA che necessita di questi requisiti di sistema, cioè una scheda grafica con GPU NVIDIA, GeForce, RTX, NVIDIA RTX Titan e quindi tutte delle schede che implementano funzioni particolari della GPU. Ma andiamo a vedere cosa è possibile fare con questo software che fa uso di intelligenza artificiale. Allora, io adesso vado a farvi vedere un modello standard, cioè un disegno 2D standard, ma è possibile produrre un'immagine equirettangolare che è possibile utilizzare all'interno di programmi di grafica 3D o anche ad esempio in Bluff Title, Blender, eccetera. Andiamo a vedere come funziona il programma nella modalità standard. Quindi premo continua e ho due quadrati, come vedete. Qua sulla sinistra è dove andrò a dipingere, ma è possibile dipingere anche direttamente sul risultato qui. Qui ho una serie di materiali e questi sono materiali, diciamo, inerenti, terreni, landscape. Quindi avremo il cielo, le nuvole, montagne, neve, acqua, fiori, alberi, eccetera, eccetera. E qua abbiamo degli stili predefiniti oppure delle variazioni di stile. Con questo stile andremo a scegliere la luminosità del paesaggio. Ad esempio io parto con qualcosa di chiaro. Vedete che subito il cielo si adatta al chiaro. Allora, così con il cielo non si capisce molto. Ma ora proviamo ad andare a inserire qualcosa. Ad esempio prendiamo Grass Erba e provo a tracciare. Qui abbiamo il pennello, abbiamo anche la dimensione del nostro pennello, abbiamo possibilità di fare delle linee, cancellare e riempire, avere un picker del materiale e poi possiamo spostare. In più qua abbiamo un'iconina che ci indica il materiale e i materiali, una scelta di materiali veloci da prendere. Quindi andiamo, dicevo, a tirare questa linea verde che sembra un disegno di un bambino all'asilo quando va a riempire, a pasticciare così il foglio. Lo vedete, ecco qua. Ma quando io vado a rilasciare l'intelligenza artificiale sa cos'è, di cosa si tratta di questo materiale e lo va a sostituire con l'erba. E vedete immediatamente cosa succederà qua. Ho un po' un taglio perché ho fatto qua. Posso andare a riempire. E abbiamo creato un bellissimo prato. Andiamo a inserire delle nuvole per rendere più interessante. Vedete che io posso sostarmi col cursore sia di qua che di là. Andrò a disegnare qualcosa così e quindi vado a creare delle nuvole semplicemente disegnando. Vedete, molto molto simpatico. Guardate il livello di fotorealismo. Andiamo ad esempio a cambiare, modificare il nostro paesaggio andando a inserire delle montagne. Quindi andiamo su Mountain e andiamo a disegnare così da in fondo delle montagne. Vedete che si modifica anche quello che sembrano le nuvole. Ma pian piano, mentre io traccio così, vado proprio a realizzare le mie montagne. Ovviamente il disegno andrebbe fatto di qua perché scegliendo il pennello giusto posso decidere dove la montagna si alza. Vedete, sistemare meglio in questa maniera. Et voilà, guardate che roba. Abbiamo già inserito le montagne. Proviamo a inserire un po' di fiori. Facciamo qui tutta una parte così di fiori da questa parte qui. Così che poi viene giù allargandosi tutta questa parte qui destra del nostro disegno. Vedete, sono proprio degli enormi pasticci di qua. Eppure quando rilascio, guardate come ho inserito fiori qui. E ovviamente come vedete l'intelligenza artificiale non è che fa dei campi netti, ma lavora per farci uniformare il tutto. Quindi mentre io ho inserito questo, automaticamente è andata ad abbellire, a sistemare tutte le nostre variazioni. Ecco qua, quindi qua ad esempio ho notato che c'è un po' di pasticcio perché la montagna deve scendere così. Ecco qua abbiamo una modifica. Proviamo a inserire anche dell'acqua e creare quello che può essere qui un laghetto così da questa parte. Ovviamente si dovrebbe poter, con il vasetto qui, riempire di celeste. E ecco guardate che è successo. Abbiamo proprio un lago, un lago di montagna da cui poi parte qui il mare. Abbiamo anche possibilità di inserire cespugli, vegetazione. Proviamo a inserire delle pietre, devo riprendere qui. Andiamo a inserire in questa parte qui delle pietre così. E vedete come adesso sono state inserite qui queste pietre. Magari piaceremo un po' il pennello. Ecco qua, così abbiamo modellato un po' qui, ma volendo possiamo riprendere l'acqua e modificare, vedete, in tempo reale il mio contorno e bordo. Ecco qua, molto più realistico. Adesso proviamo a costruire anche un albero. Gli alberi, visto, sono, è molto importante, mentre nelle altre buttiamo un po' le forme così, l'albero è molto importante come viene disegnato. Allora proviamo a fare una riga dritta per il momento, otterremo, vedete, una, proprio un palo. E da questo proviamo a tracciare così dei rami e vedere di riempire nel modo migliore e costruire così la nostra vegetazione. Vedete che mentre lo costruiamo lui si va ad adattare e ovviamente andiamo a migliorare qui perché vediamo che questa parte non era proprio bellissima. e sempre con il fusto del ramo proviamo a inserire altri elementi, così vedete che se io ripasso qui, pian pianino mi va a infoltire l'albero. E come vedete è già molto più realistico. Ecco, e così possiamo continuare. Adesso noi siamo partiti con un disegno di questo tipo, ma è possibile fare qualsiasi variazione in pochissimo tempo. Prendiamo un po' di sabbia e facciamo che questa parte sia sabbiosa, per cui facciamo così, facciamo una specie di rientro di spiaggetta del lago. E vediamo cosa succede. E avete visto, ecco che qua c'è più un terreno sabbioso. Proviamo a farlo rientrare di più. Mescoliamo così, ecco vedete che sta prendendo forma. E ovviamente anche il discorso sabbia si adatta allo stile del paesaggio che stiamo scegliendo. Adesso guardate cosa succede se scegliamo tra queste variazioni sempre con lo stesso disegno. E vedete sempre lo stesso disegno, chiamiamola foto, insomma I, e come viene modificato scegliendo paesaggi diversi. Vedete che cambiano proprio i fiori, cambia l'influorescenza qua della pianta. Possiamo andare di notte, sole, tramonto, guardate questa che bella. Cioè otteniamo varie variazioni, varie variazioni, scusate giochi parole, a seconda della tipologia che già scegliamo inizialmente. Ad esempio anche questo è molto bello. Ma ritorniamo sul nostro. Poi abbiamo una variazione anche all'interno dello stesso stile e andrà a generare, vedete, ancora altre risultanze. Qualche volte anche più strane, particolari. Quindi abbiamo veramente dello stesso stile, stesso disegno, anche varie possibilità. Ecco guardate qui con questi fiori gialli tipo colza. Ad esempio questo è abbastanza credibile. Inoltre quando abbiamo fatto una base di un disegno possiamo aggiungere dei layer e quindi non aver timore di modificare qualcosa. Perché vi faccio vedere, ad esempio faccio una montagna più alta, proviamo ad aggiungere la neve, non so. Proviamo a fare una montagna così che sovrasta un po' il tutto. Ovviamente dove c'è il cielo lui crea nuvole, per quello noi inizialmente vediamo un nuvolone. Ma adesso facendo così vedete che va a riempire di più, ha messo anche della vegetazione qui. E vedete che ha incominciato ad andare su sulla montagna con altre parti di vegetazione. Proviamo ad aggiungere della neve qui e veniamo così giù e vedete che si trasforma. È possibile anche utilizzare delle foschie, vedete, per creare questi aloni di nebbia. Devo vedere che abbiamo qui un pulsante che spegne il layer e ritorna al layer originale o lo riaccende. E così si può continuare aggiungendo layer e aggiungendo elementi. Adesso vi faccio vedere partendo da un qualcosa di diverso. Allora proviamo a fare un disegno nuovo, questo cancelliamolo pure. Sempre così, scegliamo un altro stile iniziale e proviamo a partire con un altro fondo. Ad esempio proviamo a partire con un fondo di sabbia direttamente. Quindi facciamo qui tutta una bella sabbia. E guardate, abbiamo completamente un paesaggio diverso. Vedete, basta muorlo un pochino. Ecco, adesso questa è la versione beta. Pensate cosa si potrà fare in seguito se fossero aggiunti altri materiali, altre cose. Vado ad aggiungere delle, queste piante. E vedete che sto ottenendo un ambiente che sembra più un pioggia, una con delle dune. Ecco, facciamo così e vediamo cosa succede. E ecco qua il nostro mare. Vedete, proviamo ad alzare un po' il mare. Eccolo qua, come vedete anche, si vedono anche le onde e la schiuma. Avete visto che roba in pochissimi secondi abbiamo creato un altro tipo di ambiente. Ecco qua, possiamo, proviamo a fare delle variazioni e vedete paesaggi completamente diversi con questo metodo. Proviamo con questo e vediamo il nostro paesaggio sotto luci diverse di notte con queste cose strane. Guardate, ecco, questa qua, questa è credibilissima. Questa può sembrare vera, veramente. Facciamo un terzo esempio, sempre nel modo standard, dopo vi faccio vedere l'altro modo. E proviamo magari di nuovo a partire con delle montagne. Quindi proviamo a fare una parte, portiamo la montagna proprio giù, vediamo cosa succede. Cioè ogni volta si ha risultati completamente diversi, però una volta che si è capito come funziona, sono molto gestibili. Ecco, avete visto che facendo la variazione qua, guardate, noi abbiamo il profilo delle nostre montagne e qui l'erba che ha generato questa collina. Guardate, adesso con pochi tocchi facciamo un paesaggio di montagna. Vengono anche fuori le case e proprio il paesaggio. Facciamo un po' di più e inoltre è possibile darli anche qui. E vedete come vado a generare, guardate, posso farlo anche qua, mentre tiro, mentre tiro vado a creare questi boschi. È pazzesco, guardate. Vi vado ad unire così per creare una collina, vedete. Vedete che viene uniformato tutto, cioè dal bosco si passa a cose più grade fino ad arrivare a terra. E in un attimo abbiamo anche una cosa, anche qua, molto credibile. Andiamo a inserire qualche nuvola. Qua e là. E il gioco è fatto. Proviamo anche qua a fare delle variazioni. Ecco, guardate come è cambiata tutta l'atmosfera. Questo è molto bello, anche perché qua è tutto diverso, non ci sono più quelle case, quel paesaggio brutto che c'era. Guardate anche questa, molto bella, un po' più fiabbesca. Si potrebbe provare a dare della foschia in queste aree qui. In maniera, vedete, da avere delle nuvole che separano la collina da quest'altro terreno qui. O anche un po' qua dietro, per ammorbidire un po' questa collina qui. Quindi avete visto come con pochi click, modificando appunto il soggetto, guardate ecco, sono passato su più roccia e già è cambiato nuovamente. Qua ci sembra che ci sia dell'acqua, dei corsi d'acqua e così via. Qui più un paesaggio invernale, sempre con le colline, questi andamenti sono tenuti. Qui, guardate anche questo, qui, ad esempio, giocando così, allora si possono aggiungere dei corsi d'acqua. Andiamo a vedere se riusciamo a cancellare. E qua, diamo ancora un po'. Et voilà! Andiamo a vedere se abbiamo altre luci. Guardate questo già, come il corso d'acqua, è molto più realistico. Bene, avete visto, è pazzesco, viene quasi da passare ore perché guardate la cosa che abbiamo fatto di qua in confronto a ciò che otteniamo, è impressionante. E in ultima vi faccio vedere invece il panorama e andiamo sempre a disegnare. Vedete che qua possiamo anche ruotare già per avere un preview del 360. Ok, vedete qua come diventa tutto molto più piacevole. Ecco qua la prova. E adesso cosa facciamo? Proviamo ad andare a esportare questo. Lo esportiamo, io farò una prova come PNG. E ora, come vi ho detto, tanto per farvi vedere, sono in Bluff Title, faccio una nuova presentazione, vado a caricarmi quel disegno, eccolo qua. Ad esempio andrò a mappare questo disegno su una sfera e come posizione andrò al centro della sfera, all'interno. Come vedete posso regolare la telecamera per avere un campo visivo più ampio e simulare ad esempio qua la rotazione del 360. Ma qui possiamo proprio creare l'ambiente con un livello VR 360. Quindi qua volendo potevamo programmare un livello 360 che esportato si muoverà in 360 su YouTube. Guardate qua in Fusion cosa ho fatto, ho preso il mio media, l'ho buttato su una sfera, l'ho mappato su una sfera, inserisco una telecamera all'interno della sfera e questo è il render che verrà fuori. Quindi ora se vado a ruotare la telecamera facciamo, ecco vedete dal basso posso andare fino al cielo, io mi trovo all'interno della sfera e con questo posso ruotare e quindi vedete sto creando un ambiente veramente 3D. Bene, quindi avete visto questo particolare programma Nvidia Canvas dell'Nvidia, adesso ancora in versione beta ma dalle grandi possibilità. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao, io sono Anna e ti invito a iscriverti al canale YouTube di Franco Aversa.